Ciao Alain Noir, qual è il tuo rapporto con gli animali? Quali animali hai? Ho un bellissimo rapporto, sin da quando ero piccina ho sempre avuto animali in casa, gatti, cani, criceti, conigli nani ed ho una figlia che ama particolarmente gli animali. Oggi in casa abbiamo Pepe che è un maltese di 9 anni. Il tuo rapporto con la bellezza e con il tempo che passa? Il mio rapporto con la bellezza è simile, penso, a quello che hanno tutte le donne. Innanzitutto ci si deve piacere, uno si deve guardare allo specchio e deve stare bene con se stesso. È altalenante, dipende anche dal periodo, dipende dall'umore. A volte mi piaccio, altri giorni un po' meno e il tempo passa, ahimè è una grande verità. Cerco di tenermi in forma, cerco di stare bene con me stessa. Poi purtroppo non si può fare nulla e non è che si possa fermare il tempo. Quindi bisogna anche avere la consapevolezza e bisogna sapersi accettare. Com'è il rapporto con tua figlia oggi? Io sono una mamma un po' severa, essendo figlia di separati, vivendo con me, pur avendo un ottimo rapporto con suo papà. Però sono quella che mette i paletti, quella che dice no. È un momento delicato della sua vita, entrata nell'adolescenza. Quindi diciamo che è un periodo in cui cerco di parlare molto con lei, cerco di far sì che lei venga da me a parlare, a confidarsi. Di certo non sono la mamma amica, sono aperta, sono disponibile al dialogo, ma non confondo i ruoli, ecco. È giusto che io sia la madre e lei la figlia. Benissimo, grazie.